Cari studentesse e cari studenti, desidero rivolgere a tutti voi i miei più sentiti auguri di buon Natale e di un felice anno nuovo. L'anno appena trascorso è stato indubbiamente uno dei più peculiari della nostra storia recente e meno recente. Un anno che segnerà sicuramente le generazioni, giovani e più anziane, che lo hanno vissuto. In questo anno però le università, inclusa la nostra, hanno continuato a rappresentare un importante punto di riferimento per i nostri studenti e per l'intera società. Nonostante l'emergenza pandemica, le nostre attività di missione sono continuate, sfruttando l'adattabilità dei nostri sistemi e la preparazione del nostro personale. Ci siamo sforzati di limitare al massimo i disagi per voi studenti e vorrete scusarci se in un anno così difficile, in qualche raro caso, non ci siamo riusciti. Ma il numero di appelli di esame di profitto organizzato, il numero degli studenti che si sono laureati nell'anno, ci dicono che siamo riusciti abbastanza bene a raggiungere il nostro obiettivo. Il successo delle immatricolazioni e dell'iscrizione alle lauree magistrali sembrano indicare che gli studenti hanno compreso l'importanza di investire su loro stessi, decidendo di coltivare attraverso lo studio, la formazione e la ricerca, le proprie qualità e le proprie vocazioni e comprendendo probabilmente il più grande insegnamento che la pandemia ci lascia, quello che la migliore arma a nostra disposizione per essere pronti ad affrontare le sfide del presente e del futuro sia proprio la conoscenza. Molti in questo momento potrebbero chiedersi che cosa ci dobbiamo aspettare dal 2021. Io penso che inizialmente dobbiamo aspettarci di dover continuare a seguire le indicazioni degli esperti e continuare a tenere comportamenti coerenti a contrastare la diffusione del contagio, usare la mascherina, evitare assembramenti, igienizzarsi frequentemente le mani, più in generale continuare ad esercitare quel senso di responsabilità che ci ha permesso finora di evitare lo scoppio di focolai all'interno degli spazi universitari e anche all'esterno qui nella città di Siena. In secondo luogo, però, possiamo essere ragionevolmente sicuri che il 2021 sarà l'anno in cui finalmente usciremo dalla fase più acuta della pandemia, sebbene sia possibile aspettarci che il virus continui a circolare, come molti virus influenzali comuni, ancora per molti anni. Ecco, diventa quindi importante cominciare a programmare quella fase, la fase di uscita, per farsi trovare pronti, anche sfruttando le inevitabili opportunità che una crisi come questa può generare e traendo spunto dagli insegnamenti che gli ultimi 12 mesi ci hanno lasciato. E qui viene la mia ultima considerazione. Se, come è altamente probabile, nelle prossime ore, giorni o settimane inizieremo la fase di uscita dell'emergenza, grazie alla disponibilità di nuovi vaccini e nuovi farmaci sviluppati in questi mesi, ricordiamoci tutti e ricordiamocelo bene che ciò è possibile solo grazie alla ricerca e ai ricercatori, alla loro passione, alla loro preparazione, alla loro creatività. In una parola, alla loro intelligenza che si trasforma in intelligenza collettiva. Buone feste a tutti voi e ai vostri cari.